Il famoso giocatore del Borussia Dortmund, Axel Witzel, sarebbe ricoperato in terapia intensiva in ospedale per colpa di un incidente domestico che avrebbe subito. In pratica il famoso giocatore belga sarebbe stato vittima di una caduta e sarebbe stato portato i corsi in ospedale. Al pronto soccorso gli sarebbe stata riscontrata una frattura facciale che avrebbe costretto portare i medici a operarlo e ricoperarlo in terapia intensiva. La situazione sarebbe risolta da come si legge sul web ma sarà necessario un periodo di stop obbligatorio per lui che coincide col mese proprio in questione il dicembre. Vi ringrazio per l'ascorto, salterà dunque la partita di Champions League, di martedì contro la Slavia Praga e le ultime tre partite del Bundesliga prima della pausa invernale. Iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video una buona giornata a voi, un buon weekend e al prossimo video dal vostro narratore italiano di YouTube Italia. Un salutone caro, uno speciale ringraziamento a voi, dunque ci sarà questo stop e questo famoso piuoto di belga del Dolce Dormo.